Se i ricoveri nelle strutture ospedaliere tarantine non accennano a diminuire procedono speditamente, d'altra parte, le vaccinazioni, tanto è vero che si sta arrivando a completare la totalità degli aventi diritto. In queste ore giunge all'ospedale Moscati un nuovo carico di vaccini Pfizer, in particolare si tratta di tre contenitori con 195 flaconi l'uno con le diluizioni, si ricaveranno oltre 3.500 dosi, serviranno per completare il primo giro di vaccini e naturalmente verranno accantonate le quantità necessarie per il cosiddetto richiamo. Abbiamo superato le 7.500-7.600 unità vaccinate e fra un po' completeremo gli operatori sanitari e ci potremo rivolgere alla popolazione. Qualcuno ha notato delle lunghe file, naturalmente si tratta di sanitari che si vengono a vaccinare, sanno in prima persona che è importante la distanza, voi l'avete rilevata? Sì, perché qualche volta abbiamo visto le situazioni del genere, un po' è l'ansia di vaccinarsi, ma non dovremmo ricordare agli operatori sanitari la regola di distanziamento, quindi però questa è l'occasione buona per ricordarla a tutti quanti.